Tragedia a Calvizzano, una bimba di 4 anni, Emiliana Tarantino, è morta a causa di un cancello scorrevole uscito dai binari che le è piombato addosso. La piccola è morta durante il trasporto all'ospedale San Giuliano, momenti di tensione al nosocomio giulianese dove i genitori e i parenti non volevano lasciare la salma della piccola. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Giuliano che hanno poi riportato la situazione alla calma. Sul luogo della dramma invece in via Scarlatti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calvizzano e della compagnia di Giuliano che hanno avviato i rilevi del caso. Il magistrato di turno della procura di Napoli ha disposto il sequestro del cancello e anche della salma della piccola per l'autopsia. Grazie per la visione!